Ci troviamo a Camogli, alla Basilica di Santa Maria Assunta, dove abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo a Ducale per la partenza della processione con la reliquia della Stella Maris per la Santa Messa che poi si svolgerà a Punta Chiappa. Partirà da qui la solena processione con l'Arcivo Escovo di Genova con tutte le imbarcazioni, quindi una processione sul mare. A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!